Andate controcorrente con coraggio, servite la verità di Cristo e non accettate i valori avariati della società che rovinano la vita e tolgono la speranza. È il pressante appello che Papa Francesco ha rivolto oggi ai fedeli radunati in Piazza San Pietro per la recita dell'Angelus, soprattutto ai giovani. Commentando il Vangelo, il Pontefice ha chiarito che perdere la propria vita per causa di Gesù può significare confessare esplicitamente la fede, ma può significare anche in modo implicito difendere la verità. Come dimenticare tra passato e presente gli esempi dei martiri, uomini e donne che hanno sacrificato la vita per rimanere fedeli a Gesù Cristo e al suo Vangelo. Oggi ha precisato il Papa in molte parti del mondo ci sono martiri imprigionati, uccisi per il solo motivo del loro essere cristiani e sono in numero maggiore che nei primi secoli della Chiesa. Ma c'è anche il martirio quotidiano, vale a dire compiere il proprio dovere con amore secondo la logica di Gesù, la logica del dono, del sacrificio e poi il martirio offerto per la difesa della verità. Persone rette che non hanno paura di andare controcorrente e noi non dobbiamo avere paura, ma fra voi siete tanti giovani, ma a voi giovani vi dico non avete paura di andare controcorrente. controcorrente, quando ci vogliono rubare la speranza, quando ci propongono questi valori che sono valori avariati, valori come il pasto andati a male, quando un pasto è andato a male ci fa male, questi valori ci fa male, ma dobbiamo andare controcorrente. E voi giovani e primi, andare controcorrente e avere questa fierezza di andare proprio controcorrente. Avanti, siete coraggiosi e andate controcorrente. E siete fieri di farlo.